Salve a tutti, in questo video vi spiegherò come modificare correttamente gli articoli che avete in bozza. Allora, come primo suggerimento vi dico di crearvi due cartelle nel desktop. Vi faccio vedere come crearle perché magari qualcuno non se lo ricorda. Si clicca in un punto libero del desktop con il tasto destro del mouse. Esce questo menu, nuova, cartella. Chiamatela magari copertine, copertine immagini in evidenza. Immagini in evidenza. Questa è una. Sempre clicca con il tasto destro del mouse sul desktop, nuova, cartella. Questa è la chiamata immagini, interne, articoli, ad esempio. E questo è uno. Ci siamo creati queste due cartelle che ci torneranno utili dopo. Dopodiché apro il browser che uso per navigare su internet. Io uso Chrome, poi quello che volete chiaramente. Vi posiziono il link per effettuare l'accesso. Accedo. Io chiaramente ho una schermata diversa perché sono un amministratore. Vi posizionate sugli articoli e troverete i vostri articoli in bozza. Io mi posiziono in bozza e c'è un articolo. Ok, vediamo, ne prendo uno e lo correggiamo insieme per farvi vedere come funziona. Cliccate su modifica. Eccolo qui. Se per caso dovesse il monitor mostrarvi una cosa del genere perché la risoluzione è troppo alta o c'è uno zoom troppo ampio, dovete tenere il tasto CTRL della tastiera premuto e muovere la rotellina del mouse fino a quando vi si vede in maniera ottimale. Io clicco qui su modifica. E ora entriamo nel vivo di quello che dobbiamo fare. Allora, come primo punto, qui, questo sarà il nome dell'articolo. Qui si scrive soltanto quello che sto per dirvi. Si scrive recensione, chiaramente se si tratta di una recensione. Quindi recensione è il titolo del libro. Ok, quindi tutta questa parpadella qui non va più bene. Quindi recensione è il titolo del libro. Il libro si chiama ritrovarsi. Il resto io lo cancello tutto. Via. Lo seleziono. Me lo copio. Quindi tasto mouse copia. E me lo riporto subito sotto. Ok, faccio un po' di spazio e me lo riporto sotto. E questa è una. Dopodiché me lo devo anche riportare. Giù, 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 giù. Troverete qui frase chiave. E va riportato. E deve corrispondere col titolo dell'articolo. Quindi recensione ritrovarsi. Andiamo ancora giù. Troverete questa voce. Sdrug. Scritto sdrug. Qui. Qui stessa cosa. Recensione ritrovarsi. Sì, però bisogna mettere tra le parole il trattino. Occhio agli spazi. Le parole devono essere separate soltanto dal trattino. E non da spazi. Sotto. Meta descrizione. Intanto mi copio. Mi incollo anche questo. Recensione ritrovarsi. Poi devo aggiungere altre informazioni. E questo l'abbiamo fatto. Dopodiché andiamo a sistemare un po' anche le impostazioni dei caratteri. Anzi tutti i caratteri, tutto ciò che è scritto, deve essere impostato come paragrafo. Quindi siccome è una correzione, mi dovrò riselezionare tutto il testo e impostarlo come paragrafo. Per dare enfasi, per dare rilievo, usiamo il grassetto. E infatti io faccio così. Recensione ritrovarsi e metto il grassetto. Punto. Questo qui lo dobbiamo sistemare. Dettagli prodotti, eccetera, eccetera. Lo seleziono tutto. Paragrafo. Ora fa così perché è formatato male dal precedente sito. Lo faccio due volte e si è sistemato. Allora io queste informazioni me le aggiorno perché non so, è passato tempo, se la casa editrice ha continuato a pubblicarlo oppure no. Quindi mi vado a controllare la situazione su Amazon. Quindi aprite www.amazon.it, fate accesso. Se siete registrati, se non siete registrati cambia poco. E mi cerco il libro. Ritrovarsi. Io ho già aperto Amazon, ho già effettuato l'accesso. E mi cerco questo libro. Ritrovarsi. Ok, chiaramente deve essere il libro. Ritrovarsi è un titolo abbastanza generico. Quindi andiamo a vedere di chi era questo libro. Me lo vado a pescare magari qua. Eccolo qua. Ritrovarsi di... Era Loriana Lucciarini. E me lo vado a cercare. Ritrovarsi. Ok. E me lo cerco. Eccolo qui. Apro la schermata. E mi prendi dettagli prodotto. Chiaramente seleziono la copertina flessibile. Quindi seleziono la copertina flessibile. E mi prendi dettagli prodotto. A noi interessa fino a un certo punto prendere il peso, le dimensioni. Queste cose non ci interessano. I codici, magari ISBN, sì. Le pagine, sì. Ok. Ma il resto non ci interessa. Quindi me li seleziono. Me li copio. E me li riporto nell'articolo. Quindi vado qui. Questi li cancello. E via. Non se ne parla più. Saranno vecchi. Quello che è. Me li cancello. E me li incollo. Come solo testo. Li seleziono. Clicco sul colore del testo che deve essere nero. Mi raccomando. Controllate. Tutto il testo deve essere nero. E quando scriverete nuove recensioni il testo deve essere nero. Dettagli prodotto per fare enfasi. Diciamo perdere enfasi. Metto un po' di grassetto. Perfetto. Continuo. Inseriamo magari la biografia dell'autrice. Biografia. La seleziono. La metto in grassetto. Colore del testo. Nero. Ok. Chi era la scrittrice? Loriana Luccerini. A volte su Amazon c'è anche qualche informazione sulla scrittrice. Vediamo un po'. C'è qualcosa. Quindi ci prendiamo questa informazione. Chiaramente facendo un po' di filtro. Perché a me che ci interessa sono decenni sull'autrice. Giusto per dare un'informazione. Insomma. Che dobbiamo mettere tutto il suo curriculum letterario. Ci prendiamo questo qui. Sono romano. È vivo. Ce lo copiamo. Andiamo sull'articolo. Mettiamo qua. Più che una biografia. Mettiamo cenni. Perché non c'è la data di nascita. Il logo di nascita non corrisponde proprio a una biografia. Mettiamo cenni. Sull'autrice. Andiamo giù. Incolliamo come solo testo. Siccome è lei che parla chiaramente in prima persona. È come se riportiamo un discorso. Quindi lo mettiamo tra virgolette in questo caso. Aggiustiamo anche un po' gli spazi. Il format. E chiudiamo qua le virgolette. Perché abbiamo riportato una sua dichiarazione. Delle sue frasi. Quindi vanno tra virgolette. Perché li stiamo riportando dalle quali. E gli mettiamo la fonte. Che in questo caso è Amazon. Fonte. Due punti. Amazon. Le fonti vanno citate. La fonte la mettiamo veramente in riego con il grassetto. E con il corsivo. Controlliamo che questo sia sempre in nero. Quello è il testo. Nero. Bene. Vogliamo inserire anche un'immagine. Qui su Amazon abbiamo trovato l'immagine. Volendo usare questa immagine. Come si fa? Si clicca con il tasto del testo del mouse. Apri immagine in una nuova scheda. Ok. Questa risoluzione può andare bene. Perché la stiamo inserendo all'interno dell'articolo. Quindi anche se è piccolina. Può stare bene. Ma come immagine evidenza. Con questa risoluzione non va bene. Abbiamo aperto l'immagine. L'immagine adesso la dobbiamo salvare. In formato jpeg. Con il nome. Che adesso vi faccio vedere. Il nome dovrà essere. Dovrà corrispondere al titolo. Però separato con il trattino. Siccome l'ho già usato in passato. O prima. Me lo vado a ricopiare. L'ho usato qui. Quindi me lo vado a ricopiare. Copia. Mi riposiziona nell'immagine. Salva con nome. Dove me la salvo. Per questo prima mi sono creato le cartelle. Questa è un'immagine all'interno dell'articolo. Quindi immagini interne e articoli. Il nome deve essere. Il formato jpeg. Mi raccomando. Recensione. Recensione. Trattino. Ritrovarsi. Salva. Torniamo all'articolo. Accanto alla. Alla biografia. Qui ceni sull'autrice. Mi posiziono con il pulsore del testo. Aggiungi media. Carica file. Seleziona file. Mi posiziono nella cartella dove ho precedentemente salvato il file. Ecco qua dov'era. Immagini interne e articoli. Recensione. Ritrovarsi. Ci clicco sopra. Apri. Qui testo alternativo. Devo scrivere sempre il titolo dell'articolo. Quindi recensione. Ritrovarsi. In questo caso senza trattini. Dove dice testo alternativo senza trattini. Mentre qui titolo. Ci va recensione. Trattino. Ritrovarsi. L'ho già preso in automatico perché ho rinominato il file in questo modo. Questi spazi controlliamoli che devono essere bianchi. Non ci deve essere niente. Dopodiché inserisce nell'articolo. Chiaramente va sistemata. Ci seleziono sopra. E la mettiamo a destra del testo. Così. Allinea a destra. Fatto. Fatto ciò bisogna anche modificare alcuni dati dell'immagine. Quindi modifica. Qui troveremo il testo alternativo. Recensione. Ritrovarsi. E dove dice attributo. Titolo dell'immagine. Ci va recensione. Trattino. Ritrovarsi. Aggiorna. E qua siamo a posto. Dopodiché dobbiamo curare anche la formattazione. Se va messo un po' sopra o un po' sotto. Queste chiaramente sono cose che vanno attenzionate. Man mano che ci si prende un po' la mano. Spostiamoci anche qui. Nulla. Questo non va più selezionato. Articolo più recente. Bisogna sempre selezionare quando si è atta di recensioni. Bisogna mettere recensioni libri. Sempre. Altrimenti la recensione non appare da nessuna parte. Poi che cosa è questo libro? Ce lo andiamo a vedere. Di che genere è? Di che genere letterario è? Ce lo andiamo a vedere su Amazon. In genere c'è scritto. Questo giro mi sa che non c'è scritto. Si può dedurre. In genere c'è scritto. C'è scritto narrativa. Gialli. In genere c'è scritto. Questo giro no. Precedentemente dare lo aveva inserito come narrativa. Mi fido di dare. Lo lasciamo in narrativa. Nei tag. Mettiamo nei tag. La casa editrice. L'autore. Il mio nome. Marco Schifilliti. La gilda dei lettori. Il nome di chi ha scritto la recensione. E basta. Non aggiungiamo nient'altro perché si crea solo confusione. Quindi lasciamo soltanto le cose necessarie. Questo dobbiamo togliere. Perché si fa solo confusione. Qua mettiamo il nome dell'autore. C'è la casa dice pure. Dario Brunetti. Ok. Marco Schifilliti. La gilda dei lettori. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Immagini in evidenza. Andiamo di nuovo su Amazon. Ci prendiamo le immagini di copertina. Qui. Visualizza immagine. Clicchiamo col tasto testo. Abbi immagini in un'altra scheda. Eccola qui. Questa come si salva? La stessa procedura di prima. Ci clicco sopra col tasto testo. Salva immagine con nome. Ma la mettiamo non nella cartella immagini interne. Ma la metteremo nella cartella che abbiamo creato per le copertine. Quindi. Copertina immagine in evidenza. Il nome deve essere ripeto. Il titolo che stiamo dando a questo articolo. Che è recensione trattini ritrovarsi. E il formato deve essere jpeg. E la salviamo. Questa non la inseriamo direttamente. Per come abbiamo fatto nell'immagine. Della diciamo della biografia. Questa va sistemata prima di essere inserita. Quindi. Mi posiziono nel file. Lo apro con. Ci clicco sopra col tasto destro. E lo apro con office. Picture Manager. Che è incluso in tutti i sistemi Windows. Modifica immagine. Ridimensiona. Qui c'è il menu a tendina. 800 per 600. Qui. Ve lo faccio rivedere perché è importante. Mi posiziono sul file. Clicco col tasto destro. Apri con. Microsoft Picture Manager. Modifica. Menù a tendina. Modifica ridimensiona. Menù a tendina. 800 per 600. E clicco su ok. Dopodiché vabbè gli do anche così. Un clic su correzione automatica. E migliora alcune cose. E la salvo. Chiudo. Vado nell'articolo. Questo lo possiamo chiudere. Questo lo possiamo chiudere. Vado nell'articolo. Immagini in evidenza. Imposto immagini in evidenza. Carica file. Seleziona file. Desktop. Dove ho messo la mia cartella. Mi vado a prendere il file. In sostanza. Copertina immagini in evidenza. Me lo seleziono. Clicco su apri. Il titolo già se l'è preso. Perché ho rinominato correttamente il file. Ma. Questo qui. Test alternativo. Va riportato. In sostanza. Questo che c'è qui sotto. Ma senza il trattino. Va tolto. E imposto immagini in evidenza. E questo è già un altro passaggio importante da fare. Dopodiché. Cosa faccio. Abbiamo inserito. Siamo arrivati qua. C'è ne sull'autrice. Abbiamo inserito l'immagine. La sinossi ufficiale. Vabbè me la vado. A controllare se corrisponde. Ma non dovrebbe essere cambiato nulla. Però come vedete. Il formato è diverso. Quindi mi seleziono tutto il testo. E l'ho imposto sempre come paragrafo. Allineato a sinistra. Colore. Nero. Così. Per dare certo rilievo. Selezioniamo. E se mettiamo qui il grassetto. Poi diamo un po' di aria. Quando ci sono paragrafi lunghi. Andiamo dove c'è un punto. E diamo un po' d'aria. Questo migliora la leggibilità. Stessa cosa qui. Recensione. Selezioniamo tutto questo testo. Che ha le dimensioni. Che non corrispondono più a quelle che a noi servono. Selezioniamo. Menù a tendina. Paragrafo. Dopodiché. Selezioniamo il colore. Nero. Questo ce lo mettiamo allineato. A sinistra. Togliamo i due punti. Selezioniamo il grassetto. Per dare importanza. Controlliamo che anche questo sia tutto nero. Perché a volte. Sembra nero. Ma in realtà è grigio. E si vede una porcheria poi. Nella retenzione. Black. Anche qui è tutto. Diciamo. Non discuto. Sulla qualità. Della stesura. Ma diamo spazio. E respiro. Perché altrimenti ci dà poi errore. Ok. E anche questa è fatta. Dopodiché. La recensione è finita. Si va a capo. E si mette la firma. Dario. Brunetti. Ok. Alla fine. E si allinea. A destra. Colore. Nero. E messo in rilievo. Bene. Poi cosa facciamo. Dopo la firma. Scriviamo. Continua. A leggere. Le nostre. Recensioni. Lo seleziono tutto. Io il colore nero. Impostato come paragrafo. Già di sé. Dopodiché. Mi apro il sito. Senza farci. Accesso. Come. Utente. Per scrivere. Una recensione. Ma. Per navigarci. Mi apro il sito. Clicco su. Recensioni libri. Mi copio il link. Quindi lo seleziono. Tutto. Me lo copio. Vado. Di nuovo. Nella recensione. Seleziono. La parola. Recensioni. Lascio. Selezionata. Clicco su. Inserisci. Modifica link. E incollo. Il link. Qui. E poi. Clicco su. Ok. Tutto. Questa parolina. Recensioni. La metti in evidenza. Con il colore blu. Quello un po' più scuretto. Lo faccio rivedere questo blu qui. Questo qui. E poi. Gli do il grassetto. Questo qui lo seleziono tutto. E gli do il grassetto pure. Per mettere in evidenza. E questa la mettiamo anche in corsivo. Continuo ancora. Inserendo altre informazioni. Che ci servono. All'interno. Ad esempio. Adesso qui. Si deve legare un video. Un video va sempre legato. E si cerca chiaramente su YouTube. Ci apriamo YouTube. La prima cosa che faccio. Io mi. Mi. Mi copio in sostanza. Ritrovarsi. Loriana. Loriana. Lucciarini. Ok. Ritrovarsi. Lo copio qua direttamente dalla recensione. Loriana. In genere ne si trovano book trailer. Presentazioni. Qualsiasi cosa. Vediamo un po' cosa troviamo. Ritrovarsi di Loriana Lucciarini. Questo che cosa è? Sarà un book trailer. Qualcosa. Però vedete qua ad esempio c'è. Quel materiale c'è. Questo credo. Questo qua mi sa che è il book trailer. Comunque qualcosa c'è. Si sceglie qualcosa di interessante. Qualcosa che. Diciamo è particolarmente attinente. Io. Qualcosa che abbia a che fare. Chiaramente. In questo caso abbiamo diversi. Diverse opzioni. Io ci metterei questo qui. Lo metto in pausa. Cerco di capire che cos'è. Se è un book trailer. Se si tratta di una presentazione. Un'intervista. Cerco di capire che cos'è. È un book trailer. Ok. Mi copio il link. Copia. Articolo. Alla fine quindi di tutto. Quindi dopo la firma. Ci mettiamo. Continuo a leggere le nostre recensioni. Perché l'ho fatto vedere prima. Ci vado giù. E scrivo. Guarda. In questo caso. Il book trailer. Guarda. Il book trailer. Book trailer. Lo. Chiaramente lo metto. Magari al centro. Io. Il grassetto. Amo coloro di nero. Guarda. Il book trailer. Ci vado a capo. E faccio. Aggiungi media. Clicco su aggiungi media. Inserisci da url. E qui mi copio. E mi incollo. Il link che mi sono preso da YouTube. Questo va fatto. È importantissimo. Tutto è importantissimo. È un po' impegnativo. Però. Presa la dimistichezza. Fidatevi che poi si va a spediti. Quindi abbiamo inserito. Come vedete. L'immagine. Qui. Della. Della scrittrice. Qui abbiamo messo qualche cenno. Qui abbiamo inserito tutto. Quelli che sono i dettagli. Qui abbiamo inserito. Abbiamo riportato immediatamente il titolo. Abbiamo sistemato le categorie. Abbiamo sistemato i tag. Abbiamo inserito. L'immagine. Rispettando. I criteri che vi ho fatto vedere prima. Mi raccomando. Formato. JPEG. 800x600. Qualsiasi cosa. Contattatemi. Lo vediamo insieme. Dopodiché. Scorrendo. Troveremo delle voci. Qui ad esempio. I sottotitoli. Subtitle. Quando ci sono libri che hanno. Titoli lunghi. O sottotitoli. In alto si mette ad esempio. Soltanto il titolo. Cosa c'è il sottotitolo. Si mette sotto. Perché altrimenti viene. Una frase troppo lunga. E anche qui troppo lunga. Ci dà errori nella SEO. Quindi eventualmente. I sottotitoli. Si mettono qua. Dove gli subtitoli. Nel caso. Trovaste. Qualche libro del genere. Da correggere. Contattatemi. Lo facciamo insieme. Qui. Nella voce. Sdrug. Cosa va scritto. Il titolo. Di quello che stiamo scrivendo. Separato da trattini. Quindi recensione di trovarsi. Sotto va riportato. Il titolo senza trattino. Nella metadescrizione. Più. Un. Un'osservazione. Un commento. Un. Un. Una vostra frase. Sul libro. Oppure io. Come faccio. In questo momento. Giustamente. Li sto. Corrigendo. Scorrigendo i vostri. Quindi cerco qualcosa. Che sia. Indicativa. Sul libro. Della vostra. Diciamo. Della vostra. Recensione. Ad esempio. Vediamo. Che ne so. Che cosa ha scritto. Dario. Dunque. Vi posso dire. Che non l'ho lasciato. Al caso. Cerco qualche informazione. Ambi attenzione. Perfetto. E forse troppo. Sono ricchi di particolari. Vediamo un po'. Ad esempio. Ritrovarsi di. E' una piacevola sorpresa. Letto velocemente. Scorrevole. Ci può stare. Io mi prendo. Questa informazione. Me la sono copiata. Me la riporto qui. Meta descrizione. Perché quello che. Ci sarà scritto qui. Sarà nell'anteprima. Poi. Delle ricerche di Google. Ed è quello che poi. Si vedrà. Nei post di Facebook. Chiaramente. Questa linea. Deve essere verde. Questa linea. Qui sotto. Meta descrizione. Deve essere verde. E. Tendenzialmente. Almeno. Vicino alla fine. Non troppo scarsa. Ma almeno vicino alla fine. Già così mi può stare bene. Uno ci può aggiungere consigliato. Oppure lettura consigliata. Una cosa del genere. Ok. Oppure lettura consigliata per gli amanti. Se proprio vi manco qualche parolina. Per arrivare più avanti. Inserire qualcosa del genere. Lettura. Consigliatissima. Ad esempio. Lettura consigliatissima. Con punto esclamativo. Ok. E poi questo si vedrà qua. Una cosa del genere. E questo l'abbiamo anche fatto. Perché sono questioni che sono importanti e vanno fatte. Mi raccomando nelle categorie. Se trovate articoli. Questa qui. Poi la farò togliere. L'articolo più recente. Non deve essere più considerata. Le categorie le trovate all'interno del sito. Le disponibili che dovete usare. Sono queste qui. Con le rispettive sottocategorie. Le altre non le usate più. E ricordatevi di farclare recensioni libri. Perché altrimenti. Non vanno da nessuna parte. Questo discorso. Non vale per. L'architetto. Celona. Che lui si occupa di. Quando pubblica nelle rubriche. Nella sua rubrica. Non c'è bisogno che clicca su recensioni libri. Ma solo rubrica. Ci sarà proprio. C'è la sezione sua rubrica. La certe direttura. Eccola qui. La certe direttura. Lui può pubblicare lì. Fatto ciò. Dobbiamo andare a controllare la SEO. Va bene. La leggibilità. Ok. Quando è arancione. Possiamo anche andare avanti. Rossa no. Meglio verde. Se vogliamo capire. Qual è il problema. Della leggibilità. Clicchiamo su leggibilità. E dà delle indicazioni. Però ripeto. In questo momento. Lo stiamo ristrutturando. Va bene anche che sia così. Non. 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 Non spacchiamo il capello in quattro. Per il resto. Poi andrebbe anche inserito. L'invito a iscriversi al canale di YouTube. Come si fa? È molto molto semplice. Abbiamo finito l'articolo. Abbiamo scritto la firma. Abbiamo messo qui. Continua a leggere le nostre recensioni. Sotto possiamo mettere visita e iscriviti al nostro canale YouTube. Come si fa? È molto semplice. Chiaramente sempre mettiamo il rilievo. Gli diamo il giusto colore. Ma andiamo su YouTube. Scriviamo la gilda dei lettori. Ok. Però su YouTube. Ho sbagliato io. Scusate. Andiamo su YouTube. E scriviamo la gilda dei lettori. Ok. E vengono vari video. Dobbiamo vedere questo qui in sostanza. Dove c'è l'iconcina? Così che c'è il canale. Ci clicchiamo sopra. Prendiamo l'indirizzo, il link. Copia. Torniamo nell'articolo. Selezioniamo canale YouTube. Inserisci link. Incolla. E gli diamo l'ok. E lo mettiamo. Dato che YouTube comunque il genere... Il colore è rosso. Mettiamo il colore rosso. E lo mettiamo anche in corsivo. E così abbiamo finito. Dopodiché si può cliccare su pubblica. Io ora non la pubblico perché chiaramente l'ho fatta come guida. Quindi la voglio controllare con calma. Però ricordiamoci. Facciamo un ripassino al volo. Qui sopra ci va recensione. Trattandosi di una recensione. Il titolo del libro. Se il titolo avesse un sottotitolo. O un titolo molto lungo. Al primo punto. Che troviamo. Se c'è un punto. Lo stacchiamo. E lo mettiamo come sottotitolo. Questo che c'è scritto qui. Va riportato immediatamente sotto. E va messo in rilievo con il grassetto. I dettagli prodotto. Ce li copiamo da Amazon. La biografia. Ce la cerchiamo su Amazon. Su internet. La foto vi ho fatto vedere come si inserisce. Mi raccomando. Allineata a destra. Controlliamo sempre modifica. Qui ci deve essere nel test alternativo. Sempre il titolo di quello che abbiamo scritto. Quindi recensione. Ritrovarsi. Nel titolo alternativo. Va scritto così. Nell'attributo di due immagini. Va scritto col trattino. Ricordiamoci anche l'immagine in evidenza. Che deve essere un formato 800x600. JPEG. E il test alternativo deve riportare il titolo del pezzo. Senza trattini. Sotto invece nel titolo ci vogliono i trattini. Qui deve essere tutto bianco. Questo ricordiamoci. Ricordiamoci di inserire il rimando alla categoria recensioni. Il rimando al canale YouTube. Inseriamo sempre un video. Che abbia attinenza anche magari con la casa editrice. O che abbia attinenza con l'intervista allo scrittore. O la presentazione stessa dello scrittore di questo libro. O di un altro suo libro. O appunto il book trailer. Se c'è il book trailer. Io ad esempio c'è stato un libro dove non ho trovato niente. Però ho trovato qualcosa sull'argomento. Perché era un libro che parlava di questioni particolari di immigrazioni. Di sfruttamento in Africa. Ho trovato un video che parlava sull'argomento. Perché sulla persona e sulla casa editrice non c'era niente. Perché era in self-publishing. Però ho trovato qualcosa di attinente. Sotto. Ricordiamoci sempre. Frase chiave. Che deve essere il titolo di quello che abbiamo scritto. Quindi recensione, ritrovarsi. Nello slug. La stessa cosa ma divisa dal trattino. E sotto nella meta di iscrizione. Ci va sempre riportato. Quello che abbiamo scritto come titolo. Quindi recensione, ritrovarsi in questo caso. E poi un vostro commento. Una vostra osservazione. Però ricordatevi che questo sarà poi. Quello che si vedrà nel post di Facebook. E sarà poi quel risultato della ricerca su Google. Ok? Tenetelo a mente. Fatto ciò. Si può andare a pubblicare. Chiaramente non lo fate. Lasciateli in attesa di revisione. Perché controllo sempre io. Mi raccomando. So che può sembrare una scocciatura. Però vi posso dire che è presa la mano. Diventa tutto molto automatico. Grazie. Grazie. Grazie.